eccomi qua buonasera buonasera a tutti voi amici del tubo che seguite me titina come state state bene io sono contentissima sono felicissima perché dalla parte dei miei parenti raddabanna per ora ci fa da cos'è capito per ora parlano per ora chiacchiano le cose che mi arrivano a me nell'arecchia non sono normali non sono normali tipo di dire ci facciamo lo sgambetto e ci facciamo rompere di nuovi denti cioè signori allora io voglio sapere se devo andare in questo matrimonio di mia figlia anche scortata a questo punto anche scortata con le guardie del corpo dico io perché chissi sono veramente casafirano ca o fanno i risulta sopra ora io ho parlato con il mio dottore ci disse dottore io vivo con quest'ansia canto matrimonio mi deve succedere qualcosa che cosa sa fare ci si insegna una supposa a supposa ci fa mettere al suo monghiere dico che devo fare io che vivo dice si fa un po di camamilla dire che così sta più calma io ma fince ma è peggio ci penso di più ci penso di più signori vi immaginate che manca pochissimo io veramente ci sto sentendo il piacere come se samara veramente fosse mia figlia nel senso che l'ho fatta io anche se non l'ho fatta io perché ma mi si rientra che faceva scantare e ma mi si rientra io quindi meglio anzi meglio i miei figli mi dissero e sta trattando meglio e certo 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 perché figli ha tutti gli effetti giusto è ma non l'ho capito io oh è che i miei figli da rabbana pure i miei figli sono un po' commeriose un po' commeriose perché non stanno facendo la fortuna che sta facendo il da questo peggio bello un peggio leato ho capito e chissà quindi io ti pare come raggiungo sogno madre e un padro sogno madre e un padro però mi raggiungo però di tutto questo me ne accorgo adugno significa accorgo a proposito c'è qualcuno che dice parla in italiano allora questo è un video siciliano con dialetto palermitano ok quindi questo è signori io sono nata così e io parlo sempre vedete il mischio il mischio però è mia natura faremi escire e cose naturali capito è mia natura proprio e chissà è una luce annuttata che io ne do emere capito ora avverto tutti gli amici che sono invitati al matrimonio se possono fare loro da come come che si dice da quando io scendo dalla macchina che entro in chiesa o vado in sala si fanno trovare loro con un cerchio tutti con le mani messi così e io passo dentro sto cerchio si sta avvicinando a qualcuno ridi e loro vanno via subito capito perché loro hanno paura che il loro vestito si strappa c'è una dice che sta avvenendo con il vestito con lo strasciaco beh a ma carena c'è ballario di sopra già che io a chissà le lassare nuoranta sala appena scendo con il suo vestito che sta mettendo un vestito per fare più bella di me e ma io già lo so questo ma io la vedo alzare con il suo vestito che manco può passare signori allora sapete quante persone ho visto cadere con questi vestiti io nelle sale questi che hanno la coda lunga idde camminano i cristiani anziane cavano un bagno per esempio un sinaduna non ci metti mi per i superi e bene fare e cristiane raccossi e scoppa non ti è dico io allora io lei deve dire mi sento più leggera dove lo strasciaco un cecchio vi preoccupate che ci penso io perché loro stanno facendo del tutto per sembrare più eleganti di me ma non devono essere più eleganti di me signori mie allora quella che deve spiccare è la sposa e si sa c'ha l'abito da sposa ma quella che deve spiccare poi è la mamma della sposa la mamma dello sposo sono loro che devono soggiare di più ora io ho una cosa un pensiero qua vi immaginate se qualcuno si sta facendo il vestito uguale a chido mio no ma io me ne porto dieci c'ho pure quello delle luci quello che cambia le luci capito solo che questo è difficile perché chi lo venisse lo signora si ci devono cambiare le batterie dice se no ci dobbiamo mettere un pannello solare di dietro dice come sciallina e come faccio con pannello solare in arriero per dare carica al vestito non esiste non esiste ok ma già loro quando c'è il gioco d'artificio capito perché pom 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 fuori quando c'è capito che fanno sul gioco d'artificio io li faccio nascere prima a loro capito li faccio uscire prima loro dico guardate la ora quello che succede guardate la capito nel frattempo che loro alzano io ho le minicicciole quanto quanto unaio sapete quelli che fanno questo rumore pom a colse e devono fare ma dov'è il gioco di fuoco che poi questo è un gioco di fuoco invisibile ci dico io capito no ma ci sarà bellissimo il gioco d'artificio capito poi c'è tutte quelle luci che tutte quelle fiamme che escono sapete che ora ci sono le fiamme che escono che si sassero lontani di cui si sassero lontani perché si tirano a rubare la scena a mia figlia ma già ci sono i vampati ci sono già state a cura state a cura che è meglio state a cura ve lo dico state a cura state attenti ai miei parenti lo dico eh con un grande sorriso sempre di dentexpert del dottor giovane battista caputo e che è ammirea e pur chissà ok tutto ora c'è una che mi criticava quando mi mancavano i denti a me casaccio cacicario un dente recato e dice che lei fa così per non farlo vedere non sai come c'è dire con bicchiere ci dico brindiamo brindiamo farlo un sorriso appena gli dà ti manca un microfono a cos'è vai un tolij microfono perché c'ho solo io che sono fatto magra c'ho solo io la cosa del microfono microfono qua dice che c'è un dente c'è manca o questa è quella che criticava me davanti a tutta la sala allora lei farà no no non mi manca ti manca tu che cosa diceveri mia che mi mancavano tutte uire attia chiuso che o primo in seguito ci saranno lavori arrivederci a tutti grazie grazie a tutti ciao alla prossima